Secondo appuntamento della rassegna letteraria a scrittori al centro, promossa dalla Fondazione Carispac. Sabato 24 novembre alle 18 all'auditorium del Parco dell'Aquila è di scena il thriller Noir con un doppio incontro per due scrittrici giovani e di talento. Paola Barbato presenterà il suo ultimo libro, Io so chi sei, con il quale si avventura nel territorio delle trilogie, primo volume di una serie a cui ne faranno seguito altri due in un prossimo futuro. Uno di questi, Zoe, è già presente su Wattpad, ma il collegamento tra i tre romanzi non sarà così stretto da impedirne la singola lettura. Questo è il mio progetto più ambizioso, ha spiegato la scrittrice, la costruzione di una trilogia che però non sarà veramente tale. Io so chi sei, per prima cosa non è un romanzo di buoni sentimenti, ma un thriller un po' deviato che presenta una protagonista del tutto in etta. Non credo negli eroi, ha detto, nei protagonisti positivi e nemmeno negli antieroi che nella mia ottica non rispecchiano la realtà. Attorno a noi c'è Grigiore, incapacità di fare la storia, anche quella con la S minuscola. Tutti i personaggi di questo romanzo sono nel complesso incapaci di affrontare una realtà che stende a tritolarli, ma mi auguro che i lettori ritrovino in essi anche le loro debolezze. Anche Alessia Gazzò, la regina del medical thriller italiano da 800.000 copie vendute, presenterà il suo ultimo lavoro, Il ladro gentiluomo, dalla serie L'Allieva, un caso di successo editoriale, anche in questo momento di Ascolti TV, con la fiction in onda sul Rai 1 Collino Guanciale. In questo racconto la protagonista, Alice Allevi, è finalmente specialista in medicina legale e affronta delle scelte difficili e decisive per la sua vita, il trasferimento in un'altra città per lavoro e soprattutto un altro e burrascoso caso che sarà foriero di altri guai. Il romanzo, come sempre, è magistralmente intrecciato da un filo fatto di emozioni e colpi di scena. Anche Il ladro gentiluomo non delude gli appassionati del mistero. Alessia Gazzola non perde il tocco nemmeno in questo nuovo romanzo, anzi si ravvisa una maturità stilistica, una leggerezza, una briosità nel raccontare, nel descrivere, nel caratterizzare, pronta a lasciare il passo a un linguaggio più tecnico quando necessario che fa sì che il romanzo si possa leggere in un soffio. Dialogherà con le autrici la giornalista del TG Rai 2, Caola Carulli.